continuiamo a guardare che non c'è niente non Non possiamo farti pregare! Come dovremmo combatterlo? Ah, forza! Dobbiamo prenderlo! Non tornerò in prigione! Ehi, palo! Tiriamolo giù! Tipico di New York! Si libera un parcheggio e subito si scatena la rissa! Altri amici! Ragazzi, non è necessario! Ho già deciso di rigare dritto! Per te è finita! Spiderman, l'agente del quartiere mi ha riferito che gli evadi hanno tentato di rompere nelle loro cari. Corrisponde alle mie informazioni. Vogliono un edificio. È molto meno complicato affrontarli in strada, senza ostaggi. Ci sto provando. Ci sentiamo presto. Non lasciatevi sorprendere! Ok, ma potta be Spidey. Ok, ma potta be Spidey. Ok, ma potta be Spidey. D'accordo, è dovuto voi. Ragazzi! Ehi, preferite essere chiamati rinforzi o rincalzi? Sì, la terminologia è importante! Sta decimando! Svegliatevi! Come? Si finirà per batterci! Occhio! 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 Sì! Nole è la carita per batterci! Occhio! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, hanno capito che le basi sono troppo facili da individuare. D'ora in poi si muoveranno in piccoli gruppi. Sistemarne una manciata alla volta richiederà tempo, ma è più sicuro. Soprattutto per New York. Esatto. Bene. Soprattutto per me. Soprattutto per me. Amici miei, sto ricevendo decine di chiamate convulse da persone che tentano di fuggire da Manhattan. Capisco la tentazione, ma non è questa la risposta. Sono in contatto con il National Disease Center. Martin li sta usando come agenti dormienti. Chiamerò un'ambulanza. Spero possano aiutarlo. Ehi, Spider-Man! Quanto ti debbierò raggiungere questa epidemia? Coglione mascherato! No, è il primo. Grazie mille. Ma siamo stessi sulla stessa banca, Spai. Non abbandonarci. Non abbandonare qua. È così. Ok. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Non vorrei sembrare paranoico, ma inizio a pensare che sia una questione personale. Grazie a tutti. 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 No, dico sul serio, ti adoro. Quando gli fanno 15.000... 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3... Qui comando Sable, siamo in attesa di aggiornamenti da Yorkville. Punto di controllo. Ho scordato i documenti. Vi proverò chi sono. Mincina. 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 Lì, c'è Ehi! Allora gettate le armi e arrendatevi! Ragazzi, possiamo parlare! O picchiarci! Voto per picchiarci! Voto per picchiarci! Bax! Stai a spariare armiato! Stai a spariare armiato! Almeno brutalmente! Però... Non sono pieta! Più cattivo, vieni! Ah, lo so però, me ne vado! Fui strafigo che sono! Vai ragazzi! Oggi si scambiano le assicurazioni! Basta! Ecco come si uccide un eroe! Un pugno alla volta! Ti ucciderò! Qualcuno lo riporti con! Via ora! Ma io lo pensiero! Cimino! Cimino! A quest'ora sarà già in New Jersey! È come radunare gatti! Gatti con precedenti penali! Lasciaci morire in pace! Amici, la città è in piena crisi Ponti e tunnel sono bloccati I pendolari che lavorano in città non possono più tornare a casa Altri non hanno modo di entrare nei loro quartieri per via della quarantena Sento parlare di tendopoli, persone che dormono nei parchi Ci sono tragiche similitudini con la grande depressione E con l'epidemia di spagnola del milano Odio quando sbucano dal nulla Cosa alimenterà quei jetpack? Speranzi? Speranzi? Attenzione, deposito alimentare saccheggiato dai vasi del raft Raggiungere stato, please, passo C'è gente colata, che conta su questo? Andiamo, 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 andiamo Guerra di cibo, il lancio del rancio Lasciamo perdere Disparcherò il cranio Non posso colpirlo in volo Viva Restate dove siete, spirollati Ti è piaciuto, ragnaccio? Ti farà male Stai cercando di impressionarmi? Sono scorta d'emergenza, lieto di essere stato utile I'm gonna tell everybody, you're for real I knew James was wrong about you They deserved it 10-13, agenti sotto il fuoco dei cecchini Raggiungere stato, please, passo Devo eliminare quei cecchini I poliziotti dicono di amarti, ma poi ti spezzano il cuore C'è Spider-Man Ho visto quando... Vieni fuori, cazzo! E' qui, posso spararti anche da qui Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo Cazzo, cazzo Cazzo Bye bye, bon voyage Proprio come una versione assurda di un western moderno Sheriffi assediati in un canyon urbano Yippie yayé, pezzo di ragno Yippie yayé, pezzo di ragno Yippie yayé, pezzo di ragno Cazzo Eh, è la propria destra Cazzo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Manco è che deve fare una missione e risponde un'altra Molti ascoltatori ci segnalano che gli evasi di Riker hanno occupato diversi isolati della città E lì sono zone di Manhattan in cui è impossibile mettere piede Sembra una scena da film distopico degli anni 70 Ma perché la polizia non li ferma? Vi chiederete Ah, questa è meravigliosa A quanto pare i prigionieri hanno assaltato un convoglio che trasportava armi e munizioni per le forze dell'ordine In sostanza stanno facendo il mazzo alla polizia con i suoi stessi fucili Finalmente i nodi vengono al pettine Vedremo se Spider-Man nella Sable International sono effettivamente i nostri angeli custodi Quei criminali non si nascondono Agiscono alla luce del sole e vi stanno sfidando Allora, che aspettate a intervenire per la miseria? Ok 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 Ti farà male! Avanti, andiamocene! Non pensate a fare la magia! Non restiamo uniti, sparpagliamoci! Ottime notizie, rivedrò, credo servirà a un veicolo più capiente. Ora basta. A tutte le unità, ci segnalano lo scoppio di una rivolta. Raggiungere Saturn, please. Passo. Oh, basta. Yuri, so che sembra assurdo, ma credo che questo gruppo di agenti della Sable stia arrestando e dirubando le persone. Confiscano oggetti. È una misura alzata con ladri e spacciatori. Beh, la stanno applicando a persone con auto e gioielli di lusso. Questo li rende dei criminali. Trattali come tali. Ho confiscato un'auto con lì. Non gioco a te, ma se in questa casa non è uscita dalla loro cella, dovranno intestarcene la proprietà. Sono Aranzo. Saremo fuori dal paese prima di scogliere. Non sembra da quel conto che lo fai. La signora magari capirà anche a te. Il versicolo è al corrente. No, non è necessario caso. In come riaccierebbe? Sarà complicato. Raggiungere altro. Tutto qua è il risultato. Licenziarci. Spezia di chiacchia colare. Non manca, non perdete con il nostro collega. Senti. 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 Mi avvicino. Senti. Non importi! Faccio la granenda! Terminazione! Ehi, gente! Ho parlato con il vostro capo! Potete prendervi il resto della giornata libera! Sul serio! Hai minuto in contatto! Siamo tenero a terra! Ecco la cattiva notizia! Altri soldati! E quella buona? Non c'è! Strider-Man, l'unità della table si era già fatta notare in negativo. La table International ha altro a cui pensare, ma se ce ne occupassimo noi non farebbero sporti. Li avrei fermati comunque, ma questo rende tutto più divertente. Grazie! Non c'è... Non c'è... Non c'è mai potuto fare! Non c'è mai potuto fare! Non c'è molto male! Grandioso, ecco le altre Potrei arrendermi se mi promettete di farmi suonare la sirena in auto Maledizione, servono l'infanzo Copertura Copertura Proprio non sapete quando smette Dite a Silver Sable che non sono interessato Siamo quasi allo stalking Proprio non sapete 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 Capitano, le persone in cella sono libere e ho restituito i beni personali Bene, la Sable International assicura che punirà la squadra Non ci crederò finché non lo vedo Ok, ragazzi Proprio non sapete 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 Non sapete Proprio 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 non sapete Non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Sì Non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Proprio non sapete Non sapete Proprio 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 non sapete Non sapete Non sapete Proprio 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 non sapete